Iniziamo la sessione monitoraggio e chiamerei subito Claudio Cavazza che ci parla del monitoraggio sugli interventi selvicolturali sulla vegetazione ripariale nel bacino del fiume Reno. Salve a tutti, in questi 15 minuti ringrazio il CIRF per avermi concesso questa opportunità, vi racconterò un'esperienza che stiamo facendo da diversi anni di raccolta e di informazione di dati che hanno a che fare con la caratterizzazione delle fasce ripariali nei principali corsi d'acqua del bacino del Reno e anche con il monitoraggio di interventi più o meno impattanti fatti in questi ultimi anni all'interno dei corsi d'acqua. Io affronterò il tema dal punto di vista selvicolturale e anche in modo abbastanza veloce perché il tempo è poco. Per cui mi riferisco soprattutto all'ambito della nostra attività, quindi all'interno del bacino del Reno, potremmo dividere il bacino del Reno dal punto di vista idraulico in due mondi abbastanza diversi, quello della pianura a nord della Via Miglia e quello della collina della montagna pendinica a sud. Sono due territori molto vasti che hanno visto attività antropiche e storiche estremamente diverse e che si riflettono sullo stato e sulla consistenza dei corsi d'acqua. Un paio di premesse molto veloci. Se noi, per conoscere meglio l'attuale stato dei nostri alvei, partiamo da una semplice visualizzazione delle foto storiche con quelle attuali, ci sono alcune dinamiche che ci saltano all'occhio. Tra queste c'è indubbiamente una riduzione quasi generalizzata dell'ampiezza degli alvei. Questa grande dinamica che ritroviamo su quasi tutti i nostri corsi d'acqua è probabilmente dovuta in parte a fattori climatici. Se ne è parlato anche ieri, comunque se andiamo ad analizzare con i dati storici dagli anni 20 ad oggi le dinamiche degli afflussi e dei deflussi negli alvei, qui vedete un'immagine del Reno, sicuramente quello che salta all'occhio è che c'è stato un cambiamento. Però una cosa che mi premeva dire è che probabilmente anche l'uso del suolo, dell'assetto, del suolo, dei versanti alti, che poi influisce sulle portate che arrivano a valle, indubbiamente ha subito dei forti cambiamenti. La pressione sul bosco, vedete qui delle immagini di faggete utilizzate, pascolate, con dei turni veramente molto brevi, ogni 5-6 anni, ai primi del Novecento, le stesse zone viste oggi e anche se andiamo a vedere i territori collinari dove il campo aveva comunque preso il posto del bosco già da secoli, la situazione è in parte migliorata proprio perché la pressione antropica su queste zone è sicuramente diminuita, l'utilizzo delle risorse naturali non è più quello di un tempo. Questo probabilmente si ripercuote insieme a tutta un'altra serie di fattori anche di pressione diretta, sui corsi d'acqua, sui terrassi, sugli ambienti perifluviali, sugli attuali ambienti perifluviali. Guardate, questa è la stessa immagine della confluenza Reno-Venola ai primi del Novecento e oggi. Ovviamente le portate, ma anche il trasporto, il trasporto solido dei sedimenti, un tempo erano molto più importanti rispetto a quelle che sono oggi, grazie anche a questo assetto di uso del suolo che alla fine dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento vedeva la superficie boscata sui versanti a penini si è veramente ridotta all'osso. Poi la situazione è indubbiamente migliorata. Se andiamo a vedere nello specifico, guardate qui un altro esempio di come l'alveo del Reno a Sassomarconi si è ridotto in questo ultimo secolo. Se andiamo a vedere nello specifico cos'è successo all'interno di questo alveo, in rosso vedete sono le parti che sono peggiorate da un punto di vista dell'uso del suolo, quindi hanno visto un'artificializzazione. In verde ci sono le parti dove da alveo attivo si è passati a fascia ripariale. Quindi a seconda delle situazioni le dinamiche sono state diverse. Un'altra cosa che ci salta all'occhio andando a vedere le immagini storiche riprese dall'alto è che le fasce ripariali intorno agli anni 40-50 erano pressoché assenti su questi ampi alvei. Perché erano assenti? Perché comunque l'utilizzo di queste fasce forestali, comode, a ridosso delle aziende agricole e zootecniche era abbastanza intenso. Il salice, il pioppo, lontano, sono tutte specie che avevano una grande importanza sia dal punto di vista energetico che anche dal punto di vista delle utilizzazioni legnose. Quindi l'utilizzo di queste aree precedeva quello che potrebbero aver fatto le piene. Le fasce venivano utilizzate ogni 4-5 anni per cui rimanevano praticamente costantemente pelate. Questo ha portato alla scomparsa graduale in questi ultimi secoli delle specie ecologicamente più esigenti che oggi in pianura in Piedecolina non ritroviamo quasi più lontano, lo ritroviamo solo nella parte alta, i salici arbustivi sono sparsi qua e là, sicuramente non con la stessa importanza con cui lo erano diversi anni. Oggi comunque queste fasce ripariali se le andiamo a visitare fortunatamente oltre ad avere una certa ampiezza svolgono tutta una serie di funzioni che non sto qui a raccontare perché le conoscete benissimo, quindi corridoio ecologico, funzione ricreativa eccetera. Noi da diversi anni stiamo cercando di mettere a punto una metodologia semplice e speditiva per arrivare ad avere delle conoscenze utili per quello che facciamo sulla consistenza della qualità e della quantità di questi boschi. Per cui grazie anche alla collaborazione di generazioni di studenti che mi danno una mano in queste attività siamo riusciti a mettere a punto un metodo che prevede una prima fase di fotointerpretazione e utilizzo del GIS e una fase di rilievi in campo, prove relascopiche, rilievi di tipo forestale che non sto qua a raccontarvi e che poi utilizzando una metodologia interessante messa a punto da Ferrari dell'Aquila negli anni 90 per l'autorità di Bacino del Reno, arriva a determinare un valore vegetazionale di alveo. Sotto vedete in questa tabella dei dati dendrometrici, cioè relativi alla tipologia del popolamento forestale che oggi ci permettono di individuare tre classi a seconda dell'età della classe cronologica del bosco con relative caratteristiche di tipo dendrometrico. Come vi dicevo prima i mondi del Bacino del Reno sono estremamente diversi, abbiamo fortunatamente in collina sulle fasce montane degli ambienti ancora abbastanza integri anche se comunque guardate l'immagine sotto è il Reno a nord di Porretta, vedete che nonostante che siamo in una situazione di appennino abbastanza alto comunque l'ingessatura del corso d'acqua è evidente. In pianura potremmo passare un'intera giornata a discutere di quella diapositiva, quello è il Reno tra gli argini a cavallo di argenta, immaginatevi l'importanza delle fasce ripariali lì dentro come nodo ecologico, come corridoio, pensate che i pipistrelli utilizzano proprio le linee longitudinali per spostarsi da una parte all'altra di quel territorio, però quello è una parte di corso d'acqua tra argini artificiali di seconda categoria, quindi le problematiche della gestione idraulica, il rischio idraulico, tra l'altro siamo anche in situazioni molto spesso pensi di non tanto sul Reno, ma questa è un'immagine del Reno, ma avremmo potuta moltiplicarla su anche tutti gli altri corsi d'acqua dalla via Emilia in giù, quindi pensate alle problematiche di gestire idraulicamente un territorio come questo, argini vecchi che hanno tutta una loro fragilità, c'è il problema della suitazione dei tronchi, dell'etane eccetera eccetera, pensate al grosso problema serviculturale di gestire queste situazioni quando queste zone sono anche dentro la rete natura, in particolare quella fascia ripariale è un habitat 92 a 0, per cui qualsiasi intervento gestionale che abbia a che fare comunque con un minimo di attività serviculturale deve tenere conto di aspetti abbastanza problematici, vi assicuro che non è un lavoro semplice. I problemi che dobbiamo affrontare dal punto di vista idraulico sono problemi che dovrebbero evitare di arrivare a questo tipo di situazioni, rotture di argini per vari motivi, accumulo di materiale legnoso fluidante, guardate per esempio là quel tappo dentro due minuti, vado velocissimo. Comunque gli spazi anche all'interno di queste situazioni ingessate per fare qualcosa ci sono, guardate ad esempio questi interventi di rinaturalizzazione, questa è rete natura, quindi le attività gestionali sono diverse, si può andare dal 100% a sponte alterne, diradamento con il ceduo matricinato, una roba strana che è un 50% che serviculturamente secondo me non sta da nessuna parte, un taglio a scelta eccetera eccetera, oppure anche modulato nello spazio. Il tipo di impatto della cantieristica è ovviamente diverso, a seconda del tipo di meccanizzazione forestale, anche qua potremo affrontare tutta una serie di problematiche molto diverse. Come facciamo il monitoraggio? Il monitoraggio noi lo facciamo soltanto per gli aspetti forestali, mentre sarebbe molto interessante fare un monitoraggio di tipo generale, sugli aspetti ambientali, ecologici, ma non soltanto, anche sugli aspetti idraulici. Quali effetti hanno questi interventi sulle dinamiche idrauliche? Noi facciamo transetti forestali speditivi, mordi e fuggi, come li chiamo io, dove arriviamo, tiriamo una cordella, misuriamo le specie presenti e altri parametri. Facciamo dei transetti forestali permanenti, dove ritorniamo nel tempo a misurare le stesse caratteristiche e facciamo delle vere e proprie aree di saggio. Qui purtroppo devo correre per arrivare alle conclusioni, vi faccio vedere soltanto qualche esempio di transetti fatti sia nelle zone collinari che anche nella zona di pianura, dove la situazione è indubbiamente peggiore. Guardate alcuni esempi di tagli abbastanza intensivi prima e dopo. In questa zona, per esempio, stiamo monitorando gli effetti assolutamente poco comprensibili della distimazione dell'acero negundo, che è una specie invasiva che si fa molta fatica a controllare. Un altro intervento, prima e dopo, però anche qua questo è un intervento abbastanza impattante che ha avuto tutta una serie di seguiti anche di tipo legale, un intervento sul Savena dove stiamo facendo un transetto permanente e ogni anno andiamo a misurare la crescita attraverso una superficie fissa. E' sempre, adesso qui siamo al terzo anno, sta diventando sempre più difficile entrare lì dentro perché le aree diventano difficilmente accessibili. Il caso del Savena, ed è il caso del Setta, scusate, il Setta guardate com'era nel 54, guardate com'era nel 2011, nel Setta è stato fatto un pesantissimo intervento comunque con tanto di nulla ossa del parco, valutazione di incidenza, quindi secondo tutti i crismi, di taglio della vegetazione, sto finendo, devo finire? Ok. Quello che vi volevo far vedere è dopo il taglio come anche c'è stata una, diciamo, le dinamiche morfologiche del corso d'acqua sono, niente, volevo parlare della morfa ma non c'è tempo, abbiamo fatto anche diversi studi sullo sviluppo della morfa, velocissimo i risultati, soltanto sulle dinamiche forestali, quindi lascio un interrogativo sugli effetti ecosistemici e sugli effetti delle dinamiche idrauliche, trascurabili danni al suolo, veloci tempi di ricopertura, limitata invasione di arbusti e gli ofili, frequenti danni alle matricine isolate, meglio se lasciate a gruppi, le conclusioni, la gestione del bosco ripariale è necessaria di esclusione di, io le ho chiamate aree remote, però insomma non è che dobbiamo sempre andare a monitorare interventi fatti ovunque, perché in alcune zone non si fanno, meglio sia affiancata da interventi di riqualificazione fluviale, perché la gestione del bosco può essere alleggerita ridando spazio ai fiumi, meglio gestire attraverso piani, possono avere spazio anche, secondo il mio punto di vista di tecnico forestale, interventi a compensazione che utilizzino la biomassa, sempre se controllati in modo efficace, la servicoltura può funzionare sicuramente, quella a moderato impatto ambientale, però costa, deve essere supportata da relazioni tecniche, soprattutto supportata dai doni ai finanziamenti, l'ingresso di specie all'octone è inevitabile, più si taglia più entrano, ma fa parte del gioco, è importante il monitoraggio, chi lo fa? Noi lo facciamo un po' a tempo perso, grazie all'aiuto di studenti e dell'università, però secondo me sono temi che andrebbero approfonditi a livello anche accademico. Grazie. Grazie, no stavo dicendo non c'è tempo per le domande, però c'è il World Aperitivo, ci sarà un tavolo su gestione e manutenzione, in cui sarà presente, e quindi potrete fare le domande che riterrete. grazie. Grazie.